God Save the Wine è l'edizione autunnale, l'edizione più scoppettante e particolare perché ci racconterà cosa berremo nei prossimi vini e soprattutto è autunno, si vendemmia, si è iniziato, siamo nel mezzo, si finirà e quindi la prima preoccupazione, noi siamo persone previdenti, pensiamo a quello che berremo nei prossimi anni quindi Sergio come sta andando la vendemmia alcellese? La vendemmia alcellese penso come in tanti altri posti è una vendemmia molto speciale quest'anno, abbiamo un'uva fantastica, stiamo vendemmiando molto tranquillamente perché il tempo non è un problema, abbiamo le prossime due settimane con sole che stiamo andando veramente piano, raccogliendo, facendo una bellissima selezione dell'uva in vigna Questo è veramente il lusso di poter aspettare e poter scegliere, che è un lusso ma è anche una trappola perché quando il clima ti obbliga a fare delle scelte tu non hai questa responsabilità quando invece puoi solo sbagliarla, parlando di scelte vendemmiali, voi quest'anno avete avuto questo bellissimo premio 31esimo vino migliore d'Italia fra i primi top 50 del Biwa, una giuria dove, a parte me che uno si può fidare fino a un certo punto, ma insomma fra Gardini, Cernilli, Master Wine, persone da tutto il mondo hanno visto in questo come il più grande cliente classico e vi assicuro che c'erano grandissimi vini là dentro e fra l'altro con un'annata che insomma la 2014 quindi com'è, siete riusciti da 2014 a tirar fuori un vino del genere? Beh, è stato diciamo, sicuramente c'è stato un lavoro enorme dietro, è stata la prima annata della mia nuova cantina dove sicché eravamo veramente tutti molto preoccupati a non partire con il marchio del cellese con l'annata sbagliata era veramente, la nostra prima meta era di riuscire a salvare il possibile quello che abbiamo fatto, abbiamo perso il 50% della produzione non è che l'abbiamo persa, l'abbiamo buttata noi via, l'abbiamo tagliato tutti i grappoli che non erano quelli giusti, l'abbiamo tagliati tranquillamente, buttati via era l'unica soluzione, essendo un'azienda molto piccola o portiamo qualità o non avremo un futuro e questo è quello che abbiamo fatto, siamo stati premiati con questo grandissimo premio con questa gran selezione che è un vino anche molto importante per l'azienda a livello personale perché l'uve che vengono raccolti per fare questo vino qui vengono dal vigneto più antico che abbiamo in azienda che fu piantato da mio nonno dove si faceva la vecchia riserva di Villa Rosa quindi una storia, è bello vedere che ci sono persone come Sergio che investono e si applicano però il terroir alla fine viene fuori, cioè là dove c'era una grande intuizione, una grande vigna non si tradisce, quindi questo Sangiovese, questa gran selezione è un vino che vi consiglio veramente di assaggiare anche se le bottiglie sono pochissime 4.000 bottiglie all'anno per ora abbiamo il 14 e la 15, la 16 non l'abbiamo fatta un'annata dove invece tutti ci hanno puntato, si è preferito non farla quindi un vino da seguire, da imparare a conoscere e che veramente racconta una pagina bellissima nei Chianti Lassi quindi sono io che ringrazio Sergio che hanno insistito di portarmi in azienda e grazie di aver condivido questo grande vino con noi grazie a tutti